Ciao a tutti, io sono Lorella. Oggi è giornata di lavoro e quindi ci richiamo in ufficio per la giornata più pazza della nostra vita. Andiamo! Oddio, che brutto questo! Cominciamo bene. Allora, a quanto pare il gioco in prima persona, eh? Eccoci qua, arrivati in ufficio. Io penso che piuttosto che lavorare bisogna cercare delle armi perché qui c'è gente che ha già trovato qualcosa, a quanto pare. Che è sta roba? Oh mio Dio, coltello! Eh, ok, coltello preso. Vabbè, non ci riprendiamo tutti, dai, sennò... Grazie. Aiuto! Non ci sto capendo più una mazza. Andiamo su. Sante. Ecco, io ovviamente ho beccato la porta antincendio. Diriggiti alla reception. E dov'è la reception? Ok, preso. Vai alla tua scrivania, sì, sto cavolo. Oh, oh. Smettete di lavorare. Nella prossima ora la maggior parte di voi sarà morta. Uccidete i due dei tuoi compagni di lavoro nei prossimi cinque minuti? Secondo me è meglio se entro da qualche parte e mi chiudo. Fammi uscire, fammi uscire. Aiuto. E fatemi uscire. Oh, fatemi uscire. Eh, niente, non mi fa uscire. Perché non riesco? Secondo io, ti è piaciuta questa persona? No. E sono morta. Perfetto. Ok. Eh, devo cercare di capire come funziona. C'è. Dai, mettiamoli sì. Devo aspettare. Non mi ha certi avatars. Proprio brutti. Tipo questo. E scusa, eh, signore, senza offesa. Ma non è che sei un gnocco da paura, eh. Eccoci. Allora, devo prendere il beige. Oh, mamma mia. Ah, ecco. Eccolo qua. Sto nell'ufficio vendite. Non si può tornare in ascensore. No, eh. Vai alla tua scrivania. Eh, a sapere qual è. No, qui ci stanno le scade. Vediamo. No. Sì, ma io non posso perdere tempo a trovare il mio ufficio. Come la vedo brutta. Ecco l'ufficio vendite. Allora, io provo a mettermi nel mio posto di lavoro. Nel lavoro. Vai alla caffetteria. No, io non ci vado alla caffetteria. Dovrei scegliere una squadra sedendomi a un tavolo. Io provo a restare qui perché tanto stanno tutti a menza. No. No, quella è un quadro. Come la vedo brutta. Io non so se c'ho avuto una buona idea, sa. A restare qui ferma. Teniamo quanto duro. Così. Tanto per capire. Eccola. Ok. Ho capito che così non funziona. Va bene. Riproviamoci. Dove sboccheremo stavolta? Visto che ogni volta c'è un ufficio diverso. Oh, che carina è questa. Oh, tutti che c'erano una foca di andare al lavoro. Ecco, dai. Ok, vendite, dai. No, che è? Inserisci il codice. Ma no. Oddio. Codice, no. Io qua sento tutti che si prendono le armi. Allora, aspetta, eh. Con calma. Questa è la menza. Ma... Un coltello. Ecco, meno male, va. Almeno un coltello ce l'ho. Ma vorrei riuscire a prendere qualcos'altro di un po' più serio, ecco. Eh, ma mi sa che qua già si sono presi tutto. Forte. Ok. Adesso vorrei solo chiudermi in una stanza. Oggi, qualsiasi duo dei tuoi compagni di lavoro. Chi di due dipendenti. Ma si fa ad uccidere? Oh. Ok. Aiuto. Oddio, che è successo? Ma che sto arrancando? Sto arrancando? No, vabbè. Mi hanno fatto fuori in tre, in quattro. Quanti erano? Vabbè, ok. Ok. Mi sono fatta subito riconoscere. Va bene. Aspettiamo la prossima partita. Dai, però sto a fare progressi. Allora, rieccoci qua con un'altra partita. Ah, ma tutti duri, solo io. Tutta carina. Ok, guarda questa. Ci siamo. Vai. Andiamo a prendere il badge. Altrimenti non so. Azionista. Dove caspita? Fammi correre. E levati. Ma come ci arrivo qua? Mamma mia. Oh, ho visto qualcosa. Coltello rotto. Mi sa che stavolta mi attacco. C'è tanto quell'impressione. Non mi fa più uscire. E se faccio finta di stare qua a moribunda? No, eh? Ai 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 ai. E devo scappare. Eh, l'unica cosa qui è scappare. Non c'ho niente. Non c'ho nessuna. Oddio, la porta richiede la chiave. Voglio uscire da questo ufficio. Oddio, che pazienza. Che fatica. Allora, io seguo questa, va. No. Non la seguo. Niente, la chiave. No, non mi piace, dai. No, ma porca miseria. Vabbè ragazzi, questo gioco è un po' caotico. Direi che possiamo fermarci qui. Noi ci vediamo sabato o domenica. Ti consiglio di guardare il video nella schermata finale. Iscriviti per non perdere gli altri video. e metti un like. Ti mando un bacio. Ti ricordo che i miei video escono di sabato e di domenica. Un bacio. Iscriviti per non perdere gli altri video.